Sindaco De Martinis, è questo del mare senza barriere un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale? Sì, assolutamente. Da anni abbiamo inteso regalare e regalarci questa bella realtà che è la spiaggia accessibile e che abbiamo negli anni sempre più migliorato fornendo servizi a chi è fruitore di questa spiaggia. Quest'anno c'è qualche servizio in più anche grazie alla collaborazione dell'ASD Fuoristrada che ha organizzato delle manifestazioni proprio qui sul lungomare volte a ricavare fondi per l'acquisto di seggioline e tanto altro che potranno ancora di più dare in qualche modo servizi ai fruitori della spiaggia e anche lo stabilimento della Riviera nella persona del titolare Leo che anche lui ha collaborato affinché questo accadesse. Siamo molto orgogliosi, siamo felicissimi anche quest'anno di poter in qualche modo fornire un servizio importante alla città, un servizio e una spiaggia per la quale ringrazio infinitamente Claudio Ferrante e l'ufficio di Sabri, il consigliere delegato Giuseppe Manganiello ma anche il tecnico Marco Amadio che da anni si occupa appunto della presposizione di logistica di tutto quello che vedete e di tutto quello che abbiamo in qualche modo realizzato. Claudio Ferrante è un altro bel progetto che come ufficio di Sabri del comune di Montesilvano avete portato a termine, iniziata la stagione balneare e non poteva iniziare meglio per le persone diversamente abili che hanno il diritto di poter usufruire della spiaggia. Assolutamente sì, io sono veramente fiero, onorato, orgoglioso perché grazie al comune di Montesilvano siamo riusciti a sgretolare le barriere culturali e quelle architettoniche. Non ci scordiamo che qui c'è stato un ministro che ha dichiarato che questo è un prototipo nazionale, un'eccellenza ed è il vero senso del turismo accessibile. Quindi siamo orgogliosi, Montesilvano lo deve essere, lo deve essere l'Abruzzo e mi permetto di dire una volta tanto facciamo scuola in Italia perché alcune regioni del nord sono venuti qui da noi, il sindaco lo sa, proprio a studiare questi requisiti straordinari che noi mettiamo in campo. Quindi davvero abbiamo lavorato sull'ambiente per sgretolare tutte le barriere e per restituire libertà, dignità e pari opportunità a tantissimi cittadini di Montesilvano e tantissimi turisti locali e non.